Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 5. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E ragazzi eccoci qui, un nuovo video news e info che riguarda The Sims 5, il che fa un po' sorridere. The Sims 4 negli ultimi settimane si è dimostrato essere un gioco molto lontano dal suo epilogo, ma anzi con l'aggiunta dei kit pare proprio che sia un gioco in pieno sviluppo che ci terrà compagnia per tanto tanto tempo. Ma alcune indiscrezioni cominciano a raggiungerci e riguardano il nuovo capitolo di The Sims che si spera prima o poi arrivi. Occupiamoci un attimo del quarto capitolo. Sono stati rilasciati i kit con un loro costo, sono stati acquistati da tanti di noi e soprattutto c'è stato un piccolo malfunzionamento. Sono spariti, alcuni codici infatti hanno fatto sparire il vero e proprio kit. Ragazzi è già stato risolto e soprattutto ieri in live ci stavamo aspettando una sorta di aggiornamento, cosa che non c'è stata ma in realtà è stata presentata una prima laundry list. Ovvero una lista di bug a cui i nostri sim guru stanno lavorando e che contano di cominciare a risolvere proprio per la patch di fine mese. La patch che introdurrà non solo i letti a castello ma anche i fix del kit della polvere, è già stato detto, soprattutto alcuni bug che sono stati segnalati in questa laundry list. Quindi ragazzi ieri non hanno risolto nulla ma ci hanno presentato tutto quello a cui stanno lavorando. Quindi per quanto riguarda The Sims 4 ragazzi c'è solo da avere pazienza. Sono stati resi appunto i kit a chi li aveva acquistati, giustamente può succedere un malfunzionamento. Ma per il resto ragazzi dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per avere qualche fix importante e anche i letti a castello. Ma adesso arriviamo al nostro succo del discorso. Vi ho detto prima che The Sims 4 appunto pare essere molto lontano dalla sua fine. Quindi parlare di un papabile nuovo capitolo sembra surreale. Dal momento che appunto è stato introdotto un quarto DLC al quarto capitolo va alla grande. Sappiamo che quest'anno ci riempiranno di DLC di tutti i tipi e quindi uno dice ma come si può parlare di The Sims 5 in questo momento? Anzi in realtà The Sims 5 pare essere stato posticipato più lontano, il più lontano possibile. E invece no ragazzi. La nostra Maxis sta cercando delle figure professionali. Noi lo sappiamo, abbiamo avuto tutto l'elenco delle figure professionali e finalmente però c'è qualcosina che il nostro sim community ha scoperto. Vi lascio il link dell'articolo qua sotto in descrizione e che vale la pena assolutamente vedere e anche capire. Infatti ragazzi il nostro CEO di The Sims, Andrew Wilson, ci aveva parlato del fatto che The Sims 5 sarebbe arrivato a noi come social e competitivo. Ma a questo punto c'è da chiedersi cosa intendeva dire? Beh ragazzi la Maxis sembra proprio essersi ispirata ad una funzionalità online che era presente pensate un po' nel primo capitolo di The Sims. Ma vedremo a cosa ci si riferisce. Parliamo invece delle figure professionali che Maxis sta cercando. Stanno cercando degli sviluppatori di servizi web reattivi resilienti, ampiamente scalabili, quindi modificabili e disponibili a livello globale per supportare milioni di giocatori. The Sims 5 quindi si presenta a noi come una vera e propria piattaforma che dovrà accogliere milioni di giocatori. Ovviamente dovrà essere ottimizzata, non ci dovranno essere lag, non ci dovranno essere problemi sui server. Insomma ragazzi The Sims 5 pare essere tanta tanta roba. Ma soprattutto la seconda frase è molto più emblematica. Serve qualcuno che combini in modo creativo le migliori pratiche di sicurezza e le tecniche originali per proteggere i dati degli utenti e prevenire delle frodi. E questo ragazzi lo vedremo assolutamente fra poco. Perché ragazzi l'esperienza con The Sims 1 Online o EA Land, il nome che poi è stato dato a questa funzionalità poi chiusa nel 2008, beh è molto molto importante. Oltretutto ragazzi c'è anche da chiedersi ma com'è possibile che un capitolo di The Sims sia competitivo? The Sims non è un gioco competitivo se vogliamo. Abbiamo la galleria, vero? Quindi possiamo competere tra noi della community caricando le nostre creazioni nella galleria ma poi tu le scarichi, non c'è una vera e propria competizione. O meglio, se voi scaricate i milotti dalla galleria ragazzi io non ho dei bonus in gioco. Semplicemente lo faccio perché mi fa un sacco piacere farlo e voi magari create le vostre famiglie e le condividete col mondo. Quindi al momento su The Sims 4 c'è la possibilità di condividere le nostre creazioni, ma non c'è una vera e propria funzionalità che le rende competitive. E soprattutto come potrei competere con te che stai guardando questo video e giochi a The Sims? In che modo posso essere più bravo di te in qualcosa? Semplicemente The Sims è un gioco con un foglio bianco, quindi io decido la mia famiglia, decido di fare il mio gameplay e non significa che sia più bravo o meno bravo di te che stai guardando il video. Semplicemente gioco a The Sims a mio modo e tu giochi a tuo modo. Quindi il concetto di competitività in un gioco del genere dal mio punto di vista è completamente inutile. Ovviamente ragazzi non mi sto riferendo alle persone che fanno i sim nella modalità crea un sim. In quel caso lì non solo vedo la competitività, ma effettivamente mi deprimo perché da quel punto di vista io non riesco a raggiungere neanche la sufficienza. Ma questo è un altro discorso. Scherzi a parte ragazzi, davvero c'è da chiedersi come un capitolo di The Sims possa diventare competitivo, come possa diventare multiplayer. Perché ragazzi, se io ho la mia famiglia di sim e decido di giocare con voi in un server, vuol dire che il mio sim può sposarsi con la vostra sim? E siamo tutti d'accordo. Ma se poi io alle 2 di pomeriggio voglio giocare e voi non ci siete e non c'è il vostro sim online, io la mia famiglia non la posso portare avanti. Quindi ci sono delle catene che ci imbrigliano. Quindi da quel punto di vista ragazzi, non aspettatevi un multiplayer e io non me lo aspetto per niente, che vada ad influire effettivamente nei rapporti. Sicuramente i nostri sim possono diventare amici, posso invitarvi quando siete online a casa mia per una festa, a bere un caffè virtuale nella mia famiglia, quindi in realtà nella mia casa dei sim. Ma poi in realtà ognuno stacca la connessione, va per la sua strada e io continuo a fare la mia vita con la mia famiglia, eccetera, eccetera. Anche perché avere dei rapporti interpersonali online è molto difficile ragazzi, è quasi impossibile. Dovremmo giocare 24 ore su 24 insieme, agli stessi orari ed effettivamente se uno dei due non c'è, non ha senso desistere il gioco. Quindi mi immagino che le funzionalità multiplayer ci siano, ci saranno. Probabilmente una lobby molto molto grande dove noi abbiamo delle funzionalità tra noi. Il fatto di poter festeggiare un avvenimento insieme, il fatto di poter andare a fare una vacanza insieme se siamo entrambi online. Ma poi in realtà c'è qualcosa che ci riporta a The Sims per quello che conosciamo finora, ovvero la mia famiglia, la mia città, il mio lotto e la possibilità che la mia vita vada per fatti miei e la vostra per fatti vostri. Semplicemente magari ci sono delle funzionalità online che ci permettono di interagire e giocare e ragazzi non vedo l'ora sia così perché l'idea che The Sims 5 sia multiplayer vi farà capire che avremo un server, avremo tante cose belle noi come community e cercherò di sfruttare il nuovo capitolo di The Sims a 360 gradi per creare una community anche in gioco. Ma ovviamente dobbiamo avere delle piccole restrizioni, altrimenti non avrebbe senso. Per capire ragazzi cosa si stia pensando di fare su The Sims 5 dobbiamo andare a vedere cos'era The Sims Online o EA Land per capire appunto come il multiplayer può arrivare in un capitolo di The Sims e non rovinare l'esperienza di gioco che ben conosciamo. Andiamo quindi su Wikipedia e leggiamo di The Sims Online è noto anche come EA Land ed è un gioco multiplayer che è stato introdotto da Maxis sul modello di The Sims è stato pubblicato da Electronic Arts nel 2002 e poi ovviamente è stato come dire abbandonato il primo agosto del 2008 si basava su un abbonamento mensile quindi in pratica c'era un abbonamento mensile di 9,99$ al mese che ti permetteva di introdurre la tua partita quindi ancora di più ragazzi se davvero The Sims 5 si sta basando su questo modello sappiate che The Sims 5 sarà un gioco completo al 100% come il 3, il 2, l'1 e il 4 ma semplicemente se volete introdurre nel vostro gameplay anche le funzionalità online per giocare con gli amici probabilmente dovrete pagare credo un abbonamento dovremmo pagare un abbonamento al mese è ancora da capire ma di base come funzionava? il gameplay ragazzi era basato su 4 città noi avevamo 4 città nel server gigantesche e ogni città aveva delle funzionalità c'erano gli obiettivi di gioco quindi una sorta di punteggio in game e la cosa che davvero è molto molto carina è che tu potevi creare le case e rivenderle per i punti quindi il mercato online era sia attivo ma ti permetteva di avere bonus in gioco senza la necessità che ci fosse altre persone in game quindi se io faccio una casa la faccio per bene spero e riesco a venderla avrò dei punti nella mia partita ma questo a prescindere dal fatto che voi ci siate online io avrò il mio mercatino immobiliare se vogliamo e starà voi acquistare con i vostri punti la mia casa e farmi guadagnare dei punti altra cosa altra funzionalità che mi piaceva un sacco è che c'erano i lavori quindi il mio sim andava a lavorare online quindi si guadagnava dei simoleon come i lavori che conosciamo sul 4 ma allo stesso tempo se tu eri online potevi andare nel tuo ristorante online e quindi vedevi gli altri giocatori del mondo venire da te comprare le cose nel tuo negozio e quindi diciamo che è una sorta di funky business ma un po' più real life nel nostro mondo di internet quindi bello sui sim 5 fare un negozio di piante quindi lo farò sappiatelo se anche non ci sono le piante me le invento e io faccio il mio negozio di piante e tutti nel mondo verranno ad acquistare le mie piante io giustamente prenderò dei punti non credo dei simoleon ma dei punti in game che mi permetteranno invece di acquistare altre funzionalità magari che so se uno di voi ha un negozio online di divani esempio possiamo avere questo scambio è molto carina come dinamica però come vedete non è che il mio sim si sposa col vostro e non potete andare avanti è semplicemente un multiplayer in più rispetto al gameplay classico poi io una volta che vado nella lobby online compro le vostre cose dal vostro negozio torno alla mia partita e tutto torna come dei sims deve essere perché ripeto ragazzi non può essere un gioco multiplayer alla second life maniera per capirci oltretutto ragazzi c'era appunto un'economia dei sims online ha simulato un'economia lavorativa era completamente gestito dai giocatori il mercato più grande attivo nel gioco era quello immobiliare i giocatori compravano vendevano e affittavano le proprietà ad altri giocatori quindi io se ho dei sims 5 e ho l'online mi faccio una bella casa ve la do in affitto e voi mi pagate l'affitto questa è una cosa geniale ragazzi che ripeto non va a distruggere il gameplay che conosciamo sono funzionalità in più online e questa cosa può essere molto divertente potreste venire da me una settimana in vacanza nel mio bel resort fatto su dei sims 5 e pagarmi l'affitto e ragazzi io sono un po' tirchio quindi sappiate che vi darò dei salassi molto bella sto scherzando ragazzi però sarebbe molto molto bella come cosa sarebbe davvero molto bella ecco una funzionalità online di questo tipo secondo me è un valore aggiunto non va a distruggere assolutamente il cuore del gioco che resta simulativo simulatore di vita ma permetterebbe ai miei sim magari di un'ipotetica serie principale dei sims 5 di comprare affittare vendere le vostre case e così via sarebbe molto molto bello oltretutto c'erano gli impieghi nel gioco c'erano 4 lavori ufficiali in the sims online pensate che sono passati tanti anni probabilmente sarà tutto molto molto più grande in the sims 5 ma c'era il ristorante quindi io posso gestire un ristorante e posso fare in modo che online la gente venga a mangiare i miei piatti la fabbrica di robot dj e ballo quindi ragazzi era davvero strutturata bene questa funzionalità multiplayer e online non andava in nessun modo a distruggere il gioco per quel che era ma sicuramente dava un valore aggiunto ai nostri gameplay e questa cosa secondo me ragazzi se fatta a modino sarà una vera rivoluzione sul 5 avremo quindi un gameplay classico ricco allo stesso modo fatto di dlc fatto di tante belle cose e poi la funzionalità online magari previo pagamento mensile di un abbonamento è da capire che ci metterà alla prova e quindi in questo saremo competitivi e social ecco perché secondo me il CEO di Electronic Arts ha usato le parole giuste social quindi qualche piattaforma per condividere tutte le nostre creazioni è competitivo perché io faccio le case le vendo e perché no magari ci può essere una classifica se io decido di farmi il mio server con tutti voi magari potremmo fare in modo che ci sia della competizione tra noi quindi chi è la persona nel mio server che ha guadagnato di più dalle sue case ecco quella è la competizione sana tra noi quello è un concetto di competitività che ben si sposa a un gioco che è The Sims ovviamente ragazzi io faccio questo discorso legato a The Sims inteso come gioco unico ovviamente il mondo è pieno di giochi online e competitivi ma giustamente dobbiamo partire dal cuore del gioco che abbiamo davanti un simulatore di vita quindi potrebbe essere che con l'online si possa appunto creare una sorta di competitività tra noi sana divertente per fare in modo che so che magari nel mio server c'è la persona più competitiva che in una settimana ha preso più punti magari vendendo le case magari avendo un ristorante eccetera eccetera ecco sarebbe molto molto carino io spero che questa funzionalità sia non solo resa in The Sims 5 ma venga presa davvero in considerazione migliorata arricchita visto i tempi che corrono non mi aspetto che ci siano quattro lavori in croce o quattro città ma aspetto che i tempi che viviamo soprattutto la next gen legata ai pc e anche ai videogiochi possa fare in modo che The Sims 5 abbia un mondo di gioco online ben strutturato supportato fatto per bene e perché no può essere davvero una svolta potrebbe essere la svolta che rende un gameplay in single player meno noioso perché ragazzi parliamoci chiaro noi abbiamo le famiglie abbiamo le challenge abbiamo tutto ma giochiamo da soli se io invece ho la mia serie di gameplay su The Sims 5 che è classica quindi giustamente io uso tutte le cose di The Sims 5 però sapete che bello poi usare l'online e vedere se voi comprate qualcosa se magari mi comprate una casa fatta da me e soprattutto questo ha un valore in gioco quindi mi date dei punti quindi ragazzi secondo me l'esperienza di gioco su The Sims viene arricchita viene svecchiata viene resa sicuramente più competitiva e anche più divertente perché magari potete fare in modo che i vostri sim diventino ricchi perché devono lavorare e anche i simoleon acquistano un senso cioè investire i vostri simoleon in gioco per costruire investire e creare dei contenuti online che poi verranno comprati da altri quindi anche il concetto di simoleon di economia nel gameplay cambia perché a questo punto io mi faccio un gran mazzo con la mia sim faccio in modo che abbia le abilità al massimo che arrivi all'apice della carriera e dopo ragazzi però di contro ho una sim che può essere competitiva online quindi non ho poi lo stipendio fisso che conosciamo tutti su The Sims 4 esempio se io ho una cuoca e massimizzo tutto dopo un po' ragazzi finché non invecchia arriva la pensione in realtà la mandate a lavoro ma non c'è più sprint non avete più delle funzionalità di base va a lavoro e basta guadagna una sfracca di simoleon perché è a livello 10 però finisce lì se invece una cuoca mi diventa a livello 10 e dopo in gioco che torna da lavoro quindi guadagna tot simoleon io però la sua abilità la uso per aprire un ristorante online allora ha avuto senso portarla a livello 10 perché vuol dire che la sua carriera non è più monotona ma ha una funzionalità più grande per il mondo e ripeto se davvero questa è l'intenzione di The Sims 5 io personalmente non solo la provo ma l'amo alla follia perché ripeto vorrebbe dire avere un'esperienza di gioco a 360 gradi molto più competitiva molto meno noiosa molto più creativa assolutamente creativa io ragazzi se dovesse essere ve lo dico già probabilmente aprirei un'agenzia immobiliare amo il building quindi mi piacerebbe online avere un'agenzia immobiliare però per dire per fare un esempio quindi magari voi piace il giardinaggio piacciono altre abilità che poi dobbiamo anche capire cosa ci sarà su The Sims 5 adesso noi parliamo così partiamo per la tangente non sappiamo però se però mi dessero la possibilità su The Sims 5 di aprire una vera e propria agenzia immobiliare su The Sims 5 online ragazzi io sarei la persona più felice di questa terra spero di essere accontentato vi prego e però ragazzi noi adesso abbiamo fatto un gran viaggio in questo video parlando del futuro parlando di The Sims 5 della funzionalità online e vi ricordo la questione delle truffe dobbiamo tornare a quella frase perché perché appunto con un abbonamento online succedeva su The Sims 1 online l'abbonamento di 9 dollari eccetera che molti hanno subito delle frodi quindi giustamente per The Sims 5 come vedete si stanno cercando delle figure professionali che riescano a prevenire anche l'inserimento di cheat pensate un po' magari non so se vi è capitato ci sono quei cheat su The Sims mobile su telefono che effettivamente non so se funzionano perché non ci ho mai provato però comunque ci sono i cheat che ti permettono di avere gli smeraldi per comprare i set all'infinito eccetera poi ti sgamano ti bannano giustamente ben venga però se ci pensate quella è una realtà che esiste ecco stanno cercando di fare le cose a modino cercare le figure professionali giuste per fare in modo che nessuno cheat e che i giocatori di The Sims 5 online abbiano la possibilità di guadagnare effettivamente delle cose perché se io mi cito per dire la valuta dell'online all'infinito uno non mi diverto perché sono male di una tristezza unica e due non sarebbe giustamente corretto nei riguardi di chi invece si fa un mazzo tanto per guadagnare per creare le case eccetera eccetera quindi anche quella frase lì fa molto pensare che questa realtà di cui vi ho parlato sarà quella su The Sims 5 perché si rifà proprio all'esperienza di The Sims 1 online quindi ragazzi io penso che non è solo una parola o una frase buttata lì a caso io penso che The Sims 5 si baserà in tutto e per tutto su un sistema di questo genere è praticamente quasi assodato che avremo un sistema di questo genere e se dovesse essere così ragazzi tanto di cappello sarà un'esperienza di gioco divertentissima detto ciò signore ho sproloquiato per tanto tanto tempo ma davvero ragazzi io penso che oltre al gameplay oltre alla grafica che avrà oltre al DLC che avrà questa sarà la vera rivoluzione come è stata una rivoluzione sui 4 avere più azioni contemporaneamente come è stata una rivoluzione nel 3 avere l'open world io penso che The Sims 5 avrà come rivoluzione di gioco il vero online un online non troppo strano ma un online che renderà The Sims un gioco ben diverso da quello che abbiamo giocato da 21 anni a questa parte e ragazzi la palla aspetta a voi fatemi sapere qua sotto che ne pensate vi piace questa dinamica vorreste un multiplayer in questo modo con la possibilità di creare le vostre cose venderle online una lobby eccetera insomma la palla aspetta a voi per questo video però ragazzi vi dico che è tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e vi ricordo anche che qua se non trovate il canale se vi iscrivetevi anche il video consigliato io come sempre vi do l'appunto e alla prossima vi dico ciao a tutti